10 ristoranti dell'area Bassano-Marostica e un unico percorso sensoriale che condurrà le anime degli appassionati gastronauti letteralmente in orbita. Un assaggio di stagione, una tartina di tradizione e un piatto a base di tipicità. Ecco il menu che i ristoratori di Confartigianato dei mandamenti di Bassano-Marostica andranno a proporre a tutti coloro che giovedì 14 aprile parteciperanno al lancio della seconda edizione di Tempo de Ovi e Sparasi, ad assegna enogastronomica che manderà in visibilio gli estimatori dell'asparago bianco di Bassano. Sua maestà infatti sarà onnipresente nei piatti che verranno proposti quella sera, intitolata non a caso Finger Food, Finger Show. Non solo infatti assaggi da degustare ma anche una vera e propria lezione sulla filosofia che anima i seguaci del cibo da prendere con le dita. Il nostro gruppo è un gruppo molto affiatato, collaboriamo insieme ormai già da tre anni e quello che ci differenzia è proprio il fatto che ci scambiamo molto spesso competenze, non c'è mai invidia neutralmente tra voi ma solo una forte collaborazione. Quest'anno la seconda edizione di Tempo de Ovi e Sparasi avrà una particolarità. L'anno scorso abbiamo creato, reinventato, scomposto i piatti tipici della nostra tradizione con gli asparagi e reinterpretati sotto forma di Finger Food. Quest'anno invece i Finger Food li prepareremo davanti ai nostri ospiti, per cui sarà uno show, tanto che il titolo della serata è Tempo de Ovi e Sparasi, Finger Food, Finger Show. Lo scopo è quello di spiegare agli appassionati della buona cucina che dietro al termine Finger Food non si celano solo striminzite porzioni di cibo, ma un'arte che associa ricerca, creatività e professionalità. Molti dei nostri colleghi associati, tra l'altro, sono anche dei punti di riferimento importante proprio per il Finger Food. Cito Riccardo Antoniolo, Cristian Ziliotto, sono stati anche a Milano in diverse manifestazioni importanti e lo spirito di gruppo è bello per questo perché ci scambiamo proprio queste competenze tutti insieme. Non dimenticate quindi questa data. Il 14 aprile a Marostica, a Palazzo Baggio, proprio attaccato alle mura del castello, alle 20 inizia la serata. Le prenotazioni si possono fare direttamente nei 10 ristoranti che troveranno spazio quella sera e gli indirizzi degli ristoranti li troverete sul sito oviesparsi.com.